Oggi vi voglio presentare la bellissima volta della parte presbiteriale della Chieve di Soncino. La decorazione presenta questo blu cobalto e colori molto vivaci, parti dorate che ricordano lo stile bizantino, ma possiamo parlare di neobizantinismo con la nostra chiesa perché la decorazione risale al secondo ottocento. Sulla volta sono raffigurati i simboli dei quattro evangelisti Marco, Matteo, Luca e Giovanni. L'Evangelista Giovanni viene rappresentato con il simbolo dell'Aquila perché l'Aquila è lo cielo che può raggiungere le più alte quote, quello che più si avvicina a Dio nell'alto dei cieli e si credeva che l'Aquila potesse fissare il sole senza rimanerne accecata. L'Evangelista Matteo viene rappresentato con il simbolo dell'Angelo, il Messaggero, colui che annuncia, e il Vangelo di Matteo inizia con la proclamazione della genealogia di Cristo, l'elenco di tutti i suoi antenati. L'Evangelista Marco viene rappresentato con l'immagine del leone, simbolo di forza, di potenza, di coraggio, di maestosità e quindi potrebbe rappresentare la potenza della Ressurrezione di Cristo. Il Vangelo di Marco inizia con la predicazione di Giovanni Battista nel deserto, colui che grida nel deserto. La sua voce potrebbe essere paragonata a quella di un leone che ruggisce. L'Evangelista Luca viene rappresentato con il bue o il toro, animale sacrificale. Il Vangelo inizia con la presentazione di Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, che era sacerdote del Tempio, luogo in cui venivano offerti in sacrificio degli animali, dei tori.